ciao amici allora nella ricetta di oggi voglio farvi vedere come fare delle frittelle con i fiori di zucca che in dialetto da me si chiamano e pizzelle che ciuril e allora ognuno c'ha la sua versione io vi faccio vedere come le faccio io che poi era come le faceva anche mia mamma innanzitutto vi andate a lavare i vostri fiori di zucca e se si asciugano meglio ancora se non li lavate e poi con un coltello andate ad eliminare la parte non commessibile dopodiché li tagliate a pezzettini piccolini grossolanamente in modo basta che non siano pezzetti troppo grandi perché appunto si devono amalgamare a tutto l'impasto e poi vi andate a formare un impasto in una terrina a parte mescolando farina io ho utilizzato della normalissima farina 00 acqua gasata e sale allora prima vado a mettere la farina e l'acqua gasata per quanto riguarda le quantità mi sono regolata un po ad occhio e insomma dipende da quante frittelle volete fare ecco io mi regolo ad occhio e aggiungo acqua poco alla volta in modo da raggiungere la giusta consistenza che non deve essere né troppo liquida né troppo densa poi ve la farò vedere in pratica quando andate a sollevare l'impasto con il cucchiaio con la forchetta deve colare ma non deve essere troppo liquido perché voi quando l'andate a cuocere appunto dovete fare in modo da formare delle frittelle e solo dopo quando dopo che ho mixato la farina con l'acqua vado ad aggiungere il sale e come potete vedere l'impasto appunto non è né troppo denso né troppo liquido successivamente quando aggiungo dopo aver aggiunto il sale vado a mescolare i miei pezzettini in i miei fritti zucca tagliati a pezzettini in modo da farli amalgamare bene all'impasto per poter far sì che tutte le nostre frittelline abbiano almeno un pezzettino di fiore di zucca all'interno perché altrimenti sarebbero solo sporcate a me invece piace proprio che si deve sentire il sapore del fiore di zucca infatti io non ne ho fatte poi così tante ecco per questo vi dicevo con le dosi vi regolate un attimino ad occhio perché dipende anche da quante ne volete fare per quanto riguarda la cottura ahimè se non si chiamerebbero frittelli altrimenti è solo frittura il metodo per poterle cuocere io ho utilizzato dell'olio di semi ho verificato prima che fosse arrivato a temperatura giusta per poter cuocere le mie frittelle e poi mi sono aiutata con un cucchiaio per formare queste palline diciamo che mia mamma le faceva più piatte invece io le faccio proprio come se fossero delle palline ho utilizzato una pentola per con i bordi con i bordi parecchio alti perché mi dà fastidio che l'olio schizza dappertutto però potete utilizzare tranquillamente una padella insomma quello con cui vi trovate più comodi e una alla volta mi vado a friggere mi ad afformare le mie palline e le faccio cuocere veramente giusto un paio di minuti a metà cottura le giro anche per farle cuocere bene da tutti i lati e quando sono belle dorate me le vado a togliere e le vado ad adagiare su della carta assorbente in modo da far scorrere via l'eccesso di olio ora per quanto mi riguarda erano già saporite così però se sentite che magari ci vuole dell'altro sale potete aggiungerlo poi sopra dopo averle già cotte per esempio mio marito ha preferito metterci un altro po di sale ecco qui sono a cottura ultimata quando le ho diciamo scolate e messe sulla carta assorbente adesso vi faccio vedere anche il risultato finale di come sono venute proprio tutte quante e non sembra ma comunque ne sono venute almeno una ventina e non ho utilizzato molta farina perché comunque poi prendono come dire volume eccole questo è il risultato finale e ora vi faccio vedere anche come sono all'interno perché sono croccanti all'esterno e sono belle soffici all'interno insomma uno spettacolo se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like un commento ed iscrivetevi al canale e se vi va venite a trovarmi anche su instagram dove sono lo spazio di mary e sul mio blog www.lospaziodimary.it